salve amici e amiche ora apriamo con la televisione russa nel modo migliore o peggiore a seconda dei punti di vista siete un filo russo di quelli proprio oltre a convinti e decidete di andare a vivere in russia benissimo perché la russia è il posto migliore del mondo per viverci tanto che fra l'altro stanno svendendo le case a buon prezzo un monolocale circa 28 mila euro un bilocale quasi 50 e niente poco di meno che è un appartamento che con due camere da letto ve lo danno con quasi 70 mila euro comodo soprattutto se magari vostro marito è appena sparito al fronte e siete uno dei pochissimi fortunati una delle pochissime fortunate ad aver ricevuto l'indennizzo che di circa 5 milioni di rubli qualcosa come 35 mila 40 mila euro e ci comprate un bel appartamento tutto bene direte tranne che il fa per il fatto che gli appartamenti non hanno acqua non hanno elettricità i residenti in televisione russa diciamo che non l'hanno presa bene hanno detto che vivono come nelle caverne che devono andare avanti con i generatori e non stiamo parlando delle zone vicino al fronte stiamo parlando della russia quindi questa signora dice lo avevo scritto ieri devo fare la pupù e non posso farla mi piange il cuore i want to poop and i can't quindi i residenti la cronista dice riescono a malappena a trattenere le emozioni per queste abitazioni che sono inabitabili quindi sì questa è la situazione già come reagiremmo noi italiani di fronte a delle case vendute con soldoni veri e poi senza servizi forse reagiremmo così come si reagiva qualche tempo fa premier conte impegnato in un importante vertice in egitto ascoltiamo conte mitica signora per chi non se ricorda allora iniziamo con il fronte arrivano notizie interessanti di cui parlare oggi intanto la situazione di kursk come vi accennavo giorni fa la situazione è molto dinamica c'è stata in un primo momento c'è stata una ritirata da parte ucraina da questo villaggio da quest'area però poi a quanto pare la situazione adesso c'è stata una controffensiva da parte ucraina questo viene riportato da diverse mappe e diverse fonti per esempio se vediamo sulla mappa di mayakosk la situazione nella regione di kursk è questa come vedete questa zona blu è la controffensiva ucraina il che può lasciare intendere che si stia creando una sorta di manovra a tenaglia per intrappolare delle posizioni russe al centro dai report che vediamo tutti questi rapporti e tutte queste concine sono mezzi russi distrutti il 21 il 23 gli ultimi attacchi fra l'altro sono stati proprio il 25 uno che ho visto era proprio stamattina quindi la situazione è questa nella regione di kursk e torniamo sulla mappa di precedente appunto ci dà un'idea dei vettori con queste frecce rosse questa è l'azione da parte russa questa è l'azione da parte russa e quest'altra è un attacco da parte russa che attualmente sono stati respinti mentre da parte ucraina ci vediamo c'è una pressione in direzione nord est spostiamoci un po più in là un po più a sud e vediamo per esempio aggiornate le posizioni ucraine nella foresta di cui vi parlavo qualche tempo fa nel villaggio vicino al villaggio di zubravlovka quest'area è stata liberata dagli ucraini che adesso presidiano questa zona boscosa e da qua arrivano anche report di bombardamenti russi con azioni dell'aviazione e artiglieria la situazione a nord di Lipsi nella regione di Kharkiv e anche questa viene riportata in questa mappa dove vediamo due vettori appunto di spinta da parte ucraina qui e qui questo anche di questo ve ne avevo accennato qualche giorno fa quindi ci sono dei progressi da parte ucraina per riportare la situazione c'è un'incursione nella regione di Belgorod e la spinta degli ucraini per portare al di fuori dei propri confini i soldati russi anche nell'area di Vojtchask fra l'altro vediamo che non ci sono grossi cambiamenti anzi nessuno nella zona ex abitata di Vojtchask mentre si segnalano queste sono tutte azioni di droniche nelle retrovie da parte ucraina spostiamoci più a est verso Senkove come vedete i russi hanno ottenuto posizioni quelle che erano in questo villaggio fino a tre giorni fa era presidiato dalle truppe ucraine dove vi avevo segnalato un video proprio con le truppe che combattevano casa per casa cioè ripulivano le case dalla presenza russa ad oggi invece vediamo che c'è una sacca isolata russa che si sta spingendo sia a nord che a sud altri aggiornamenti arrivano poi dalla zona di Chasiv-Yar come possiamo vedere dopo mesi di stallo i russi sono riusciti a spingersi oltre il fiume a creare una testa di ponte qui e qui sono riusciti a superare il ponte e la strada e tra l'altro passo alla mappa di Mayakosk arrivano anche dei report da quest'area questo è Pokrovsk ecco qui come vedete ci sono dei report di combattimenti un mezzo ucraino distrutto cinque giorni fa questo è successo due giorni fa un mezzo russo quindi l'area dei combattimenti di Chasiv-Yar interessa ormai tutta l'area tutta quest'area dove ci sono tentativi di incursione russa le novità invece più interessanti arrivano dalla città di Toresk ora Toresk è una città particolare come vedete tutte queste chiazze queste aree qui queste, queste, queste queste sono zone minerarie di estrazione mineraria e sono delle alture che quindi rendono la situazione molto complicata perché appunto facile immaginare che dei soldati delle postazioni poste in alto hanno ampia visuale possono colpire più lontano e fra l'altro c'ho anche dei video che arrivano proprio da queste alture come vedete questa è una di queste questo è un videodronico ucraino che colpisce dei fanti russi proprio su queste questi sono delle montagnette artificiali create con materiale di scarto o di estrazione dai siti minerari allora quello che viene riportato in quest'area è una controoffensiva ucraina di questo ve ne avevo già accennato nei giorni scorsi con questa spinta quindi al centro città del centro città di Toresk ne parlerò anche perché c'è un video di un comandante russo che ci dà una testimonianza di quello che sta succedendo quindi gli ucraini stanno combattendo casa per casa nel centro di Toresk e c'è stata poi una controoffensiva in questa direzione quindi con tutto tutto questo centro abitato conteso attualmente altri progressi da parte ucraina arrivano dalla zona di Pokrovsk Pokrovsk è questa qui che adesso si trova a circa 3 km 4 km dal fronte come vedete quest'area blu è stata ottenuta dalla forza ucraina quindi c'è stata una controoffensiva in questa direzione questo viene riportato da un po' tutte le mappe e anche altre fonti di canali militari di analisi militare come vedete questi sono tutti i report di russi che hanno incontrato delle mine succede sono pessimi incontri d'altro canto i russi stanno continuando la loro pressione per ottenere più territorio possibile nella zona di Kurakov sono riusciti a chiudere anche questa sacca qui quindi stanno ottenendo progressi ma ha un costo enorme enorme di soldati e mezzi questi sono i rapporti da quest'area come potete vedere la spinta verso Kurakov è attualmente in 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 progresso stanno progredendo verso la loro verso questa strada e nel frattempo cercano di espandersi anche in vettori più a sud ovest come vedete dal numero delle icone ogni icona di quelle sono report di mezzi distrutti video che arrivano come vedete si stanno hanno ottenuto almeno la loro posizione è segnalata all'interno di questo villaggio e si stanno spingendo su questa strada ora sarà difficile a questo punto c'è un ponte la situazione qui potrebbe degenerare in fretta stessa cosa per quanto riguarda l'area di Vugledar che ormai è stata distrutta Vugledar si trova qui ma continua la loro azione ma comunque continuano anche i combattimenti da parte ucraina sempre da parte ucraina segnalo alcune azioni che poi vedremo ecco qua queste azioni in profondità a circa 30 km dalla linea del fronte alla FEBA sono una il 21 e l'ultima il 25 oggi sono azioni con droni a lungo raggio per distruggere apparecchiatura di guerra elettronica russa sono dei mezzi con antenne che servono per disturbare i segnali questo è quanto questo video qui per esempio questa è un'unità mimetizzata fra gli alberi e con queste antenne serviva per la guerra elettronica bene arrivano fra l'altro vi passo in descrizione alcuni video particolari da vedere in cui si vede fra l'altro una prospettiva diversa di cosa sperimentano i soldati russi quando vengono attaccati dai droni si vede con i loro occhi si percepisce cosa sentono cosa vedono vi passo il video in descrizione perché insomma non è un video particolarmente violento però si sente ecco questo è l'ultimo suono che sentono probabilmente molti soldati russi oggi andiamo avanti alcuni video per parlare in terma di aviazione in questo video sempre da terra vediamo un Su-27 un Su-27 ucraino compiere una manovra d'attacco lanciando AGM-88 questi sono missili antiradiazione cioè servono per distruggere difese aeree russe questi missili captano i segnali radar e si dirigono sulla fonte ora il Su-27 è un aereo russo non è pensato per utilizzare quest'arma ma quest'arma può partire normalmente come un normalissimo missile quello che fanno i piloti dato che non hanno come sull'F-16 non hanno la possibilità di selezionare versagli interrogare impostare delle coordinate quello che fanno questi piloti presumo molto probabilmente è semplicemente con le loro antenne di bordo sentono quando sono agganciati da un sistema di difesa missilistico radar lo sentono attivo a quel punto lanciano la GM-88 e la GM-88 va da solo su quella fonte e poi possono tornare indietro è un missile lancia e dimentica non necessita di guide ulteriori mi collego all'ultimo video che ho realizzato in cui qualcuno nei commenti caro amico scriveva ma perché l'Italia non dà qualche mangusta all'Ucraina è una bella domanda nel senso chiaro che sarebbe un bel salto di qualità visto che loro operano con questi Mi-24 degli anni 60 letteralmente questi sono vecchi elicotteri fra l'altro quella che vediamo in questa immagine è proprio la prima versione del Mi-24 che non è un elicottero d'attacco cioè lo è ma in modo molto limitato non è assolutamente paragonabile agli elicotteri moderni o lo stesso Mangusta o la Pace americano può sembrare simile ma in realtà è più quasi un elicottero multiruolo da supporto può trasportare truppe però ha capacità limitate soprattutto per il suo modo di utilizzo lo vediamo in questo video un elicottero che tende a essere utilizzato soprattutto quasi come un aeroplano nel senso lui deve procedere in avanti e mentre procede in avanti può fare anche dei lanci di missili missili guidati in questo caso in questo video vediamo missili non guidati questo è il classico attacco in toss cioè si cabra all'ultimo per lanciare una salva e poi quella salva colpisce ad aria fa un'ampia rosa cioè un po' come l'artiglieria non è molto diverso quindi ecco va da sé che non è proprio il massimo utilizzare un elicottero così mentre per esempio Mangusta Apaci sono più delle piattaforme pensate per un volo stazionario in cui possono essere utilizzati come spotter cioè identificano da una posizione nascosta utilizzando dei sensori identificano la minaccia poi possono neutralizzarla con un attacco diretto però di più delle volte fanno da piattaforme per il tiro nel senso JTAC cioè possono utilizzare un puntatore laser per guidare bombe che vengono lanciate da un altro elicottero o da un aereo e insomma sono Mangusta Apaci sono elicotteri pensati per la Nato con capacità Nato integrate con altri velivoli altri pacchetti in operazioni congiunte quindi è un po' complicato andiamo avanti fra l'altro arrivano anche immagini come queste la guerra aerea dei droni qui vediamo un drone di ricognizione russo che viene ingaggiato da un drone ucraino questo qui è il drone ucraino e quello con le alie è il drone russo notevole succede anche questo nella guerra moderna passiamo oltre e parliamo delle truppe nordcoreane sarà un topic che tornerà altre volte nei prossimi video ora secondo Jürgen Naudit giornalista analista la prima unità di truppe nordcoreane sono arrivate nella regione di Kursk ieri notizia però non confermata si parla di qualcosa come 12.000 soldati che includono 500 ufficiali e 3 generali dalla Corea del Nord ok ora è chiaro è chiaro questa notizia è molto controproducente per il Cremlino perché la reazione non è stata delle migliori nel senso non piace è chiaro che no è stato già chiesto alla Casa Bianca cosa ne pensa di questo la risposta è chiaro che in qualche modo la prima risposta ovvia è che queste truppe saranno bersagli legittimi in Ucraina quindi non ci si farà nessuno scrupolo con loro però ecco la giornalista in questo video intervista Kirby sta parlando in conferenza portavoce del Pentagono e chiede ma a questo punto quando date le autorizzazioni agli ucraini per utilizzare le nostre armi la risposta di Kirby è che in realtà dicono noi non sappiamo cosa stanno facendo questi soldati in Russia è possibile anche che stiano facendo campeggio barbecue qualche forma di un po' più magari ecco un po' più radicale di boy scout non sappiamo ancora cosa stanno facendo quindi non è che possiamo prendere delle decisioni avventate la giornalista dice ma che cos'altro stanno facendo in Russia secondo lei noi non lo sappiamo non sappiamo se verranno utilizzati in battaglia o meno ora per tornare su questo discorso è chiaro che a prescindere che vengono utilizzati o meno non è stata una gran mossa da parte di Mosca nel senso ecco manda ancora più lontano qualsiasi possibilità di negoziazione visto che comunque attualmente non c'era proprio bisogno ecco mi trovo molto d'accordo sulle dichiarazioni della portavoce del pentagono su questa questione vi faccio sentire cosa dice dice che fondamentalmente questo sta mettendo in chiara luce la disperazione della Russia sintetizzo nel senso dice che tutte questa richiesta di armi dalla Corea del Nord dall'Iran l'invio di truppe esterne sul campo di battaglia mostrano evidentemente in modo palese che Putin ha fallito cioè proprio è assolutamente controproducente soprattutto che alla fine 15.000 soldati dalla Corea del Nord cosa vuoi che facciano la differenza dato che ne hanno perso 680 quasi 700.000 di russi quindi a che pro questa è la portavoce del pentagono che parla appunto di evidenti segnali di disfatta e disperazione da parte del Cremlino quindi sì ora parliamo di Briggs ora non voglio entrare nel merito perché ho letto un sacco di post commenti che se la prendevano con Guterres che ha fatto inchini e sorrisini e stretto mani a gente che è attualmente accusata di crimini di guerra dal tribunale dell'AIA quindi c'è poco da commentare a riguardo e non voglio entrare nel merito poi abbiamo avuto anche Putin accompagnato dal dallo scaccolatore folle dietro di lui che si vede anche in questo video ve lo mostro vedete questa è la sua concentrazione notare la signorina come lo guarda ora Putin è stato ecco Modi dall'India presidente indiano ha continuato a cercare di far ragionare Putin su una possibilità di pace in Ucraina ha detto noi faremo di tutto per dare supporto se ci saranno delle negoziazioni di pace crediamo in una risoluzione pacifica questo è quello che ha detto Modi ma la faccia di Putin mentre vi parlava penso che sia eloquente non penso proprio ora sempre nell'ultima giornata Putin ha risposto stranamente in via del tutto eccezionale a un giornalista della BBC sentiamo cosa succede è molto interessante quello che dice ora la domanda finale la diamo alla BBC è raro avere un ospite del genere in questi giorni Steve Rosenberg per favore il giornalista della BBC esordisce così ho letto la dichiarazione finale del vertice dei Briggs parla della necessità di stabilità e sicurezza globale e regionale e di un mondo equo e il motto della presidenza russa dei Briggs include queste idee di equità e sicurezza equità e sicurezza tra l'altro il giornalista della BBC sta parlando in russo molto fluente quindi ripete il motto della Russia al Briggs 2024 era equità e sicurezza ma ora cosa ha in comune tutto questo con le sue azioni degli ultimi due anni e mezzo con l'invasione russa dell'Ucraina dove sono equità stabilità e sicurezza inclusa la sicurezza della Russia prima dell'inizio dell'operazione militare speciale non c'erano attacchi di droni sul territorio russo nessun bombardamento di città russe nessuna truppa straniera che occupava il territorio russo non c'era niente di tutto questo e infine come si concilia con le recenti dichiarazioni dell'intelligence britannica secondo cui la Russia mira a diffondere il caos nelle strade della Gran Bretagna e dell'Europa attraverso incendi dolosi e atti di sabotaggio e così via dov'è la stabilità qui? grazie quindi capito le bordate che ha fatto il giornalista della BBC ora prima di sentire le risposte di Putin vi lascio qualche secondo per indovinare quello che dirà così a naso secondo voi cosa direbbe il nostro Vladimir Vladimirovich allora vorrei iniziare con la sicurezza della Russia perché per me è la priorità hai menzionato l'attacco dei droni e così via sì questo è vero non è mai successo prima ma la situazione prima era molto peggiore la situazione era così in risposta alle nostre proposte costanti e persistenti per sviluppare contatti e relazioni con i paesi del mondo occidentale quelli hanno sempre cercato di metterci al nostro posto sì posso dirtelo con certezza in superficie erano molto amichevoli ma in realtà hanno sempre cercato di metterci al nostro posto ok qui interrompo perché è il primo punto nel senso la sua giustificazione per cui il mondo occidentale ha voluto sempre emarginare la russia da un punto di vista economico commerciale trova la prima smentita in questa paginetta questi sono tutti almeno una sessantina di oligarchi russi che sono diventati miliardari grazie al governo russo e ai rapporti con l'occidente attraverso estrazione vendita di risorse olio scusate petrolio gas materie prime come il titanio il ferro e tutta questa gente vedete c'è la lista tutta questa gente è stata ultra felice di fare affari con l'europa comprandosi villazze yacht in europa vedete la lista è bella lunga e putin è uno di questi che fra l'altro stiamo parlando comunque di un budget di qualcosa come 40 miliardi di dollari solo suoi quindi no mi dispiace ma non credo che qualcuno si sia rifiutato di fare affari con la russia in questi anni e comunque il governo ha favorito questo tipo di economia per gli oligarchi andiamo avanti e infine come si concilia scusate ho saltato sto leggendo male e da questo punto dice quindi ma infatti mi ricollego a quello che dicevo prima ma era tutto bello amichevoli però poi in realtà volevano metterci da parte economicamente non credo comunque e da questo punto la russia sarebbe finita per essere ridotta allo status di uno stato di seconda classe la cui unica funzione è quella di fornire materie prime con conseguente in larga misura perdita della sovranità del nostro paese capito cioè secondo questo ragionamento gli affari che per 30 anni da che c'è lui almeno dai suoi 5 mandati tutta questa gente ha fatto è colpa nostra secondo lui cioè gli affari che gli oligarchi russi hanno portato avanti per decenni rendendo la russia quello che è è colpa nostra e grazie a questi affari cioè noi comprando materie prime dalla russia abbiamo ridotto la sovranità nazionale russa ok boh non saprei sinceramente andiamo avanti in queste condizioni la russia non solo non è in grado di svilupparsi ma non può esistere se perde la sua sovranità questo è il punto chiave è geniale davvero e far uscire la russia da questa situazione rafforzando la nostra sovranità e indipendenza nell'economia nelle finanze negli affari militari così aumentiamo la nostra sicurezza e crea le condizioni per uno sviluppo fiducioso del futuro come stato indipendente pienamente sviluppato e autosufficiente con il tipo di partner che abbiamo nei BRICS che rispettano l'indipendenza della russia rispettano le nostre tradizioni e che trattiamo da pari quindi sì bello fare affari con i BRICS per una crescita economica la crescita economica voglio dire parliamone ci sono analisti di economia molto migliori di me ma comunque adesso arriviamo al clou della situazione del suo discorso ok ora per quanto riguarda la questione della sicurezza è giusto quando per anni i nostri partner hanno ignorato la nostra costante richiesta di non espandere la nato a est è giusto mentirci in faccia promettendoci che non ci sarà tale espansione e poi farlo violando gli obblighi firmati è giusto andare fino in fondo come per esempio in Ucraina e iniziare a costruire non preparare ma già a costruire basi militari è giusto è giusto effettuare un colpo di stato di cui ho parlato già una risposta prima al suo collega senza alcuna preoccupazione per il diritto internazionale diritto internazionale vabbè e tutti i principi del diritto internazionale e della carta delle Nazioni Unite quindi finanziare un colpo di stato in un altro paese in questo caso l'Ucraina e far precipitare la situazione verso una fase calda è giusto in termini di sicurezza globale ed è giusto violare i tuoi obblighi OSCE quando tutti i paesi occidentali hanno firmato un documento che dichiara che non puoi avere sicurezza per un paese se viola la sicurezza di un altro paese abbiamo detto non fatelo perché quello viola la nostra sicurezza la Nato si espande l'espansione della Nato e lo hanno fatto lo stesso è giusto? non c'è niente di giusto qui dice per questo vogliamo cambiare questa situazione e lo faremo ora si commenta da solo non serve neanche penso che insomma la Nato non è che si espande perché vuole minacciare la Russia la Nato si faceva bellamente i fatti suoi almeno fino al 2014 in realtà i segnali c'erano già prima tipo nel 2008 con l'invasione del Caucaso della Georgia le prime azioni diciamo contro un paese che voleva semplicemente essere indipendente e la situazione non è mai più migliorata l'invasione della Crimea la manipolazione delle elezioni l'infiltrazione di omini verdi insomma dai devi essere da vedere non lo so ma bisogna proprio sforzarsi per capire che c'è per per dire che Putin sta dicendo qualcosa di vero non c'è mai stata nessuna espansione della Nato la Nato stava riducendo la spesa per le cose militari poi nel 2014 quando un pazzo dittatore criminale ha deciso di accaparrarsi altra terra per paura che l'ennesimo stato cercasse di sfuggire dal suo controllo volendo pensare almeno inizialmente di dare una lezione esemplare alla Nato invece ad oggi si ritrova con qualcosa come 700.000 soldati spariti fra morti e feriti la sua forza militare dimezzata se non di più a un punto di vista e di sicuro i rapporti commerciali sono finiti cioè fra l'altro le esportazioni le materie prime che avevano in qualche modo arricchito tutta la gente che lo sosteneva dove sono finiti sono spariti non è che sono questi scambi commerciali sono scambi ventennali trentennali contratti a lunghissimo termine una volta che vengono recisi non è così semplice ripristinarli quindi la situazione è tremenda per la Russia e perché cosa? perché voleva dimostrare cosa? che la Nato non mantiene la parola? beh ho sentito spesso persone dire che Putin è un grande statista ma in realtà io non penso proprio nel senso se fosse stato un grande statista si sarebbe limitato alla diplomazia di sicuro nel momento in cui ha messo piede sul territorio ucraino Georgiano prima fra l'altro è passato completamente dalla parte del torto ma su questo non ci sono dubbi e non sono di certo io a dirlo poi per concludere la sua intervista quello che gli ha chiesto il giornalista della BBC non è una voce di corridoio ci sono dozzine di fatti di osservazioni e dati riportati che parlano di influenze russe nella mafia europea mafia russa presente in Europa spionaggio e tutta una serie di azioni volte a creare disordini ora questo discorso lo dovevo prendere molto con le pinze perché sono su youtube però io credo che in italia abbiamo un bello storico da questo punto di vista non storico in senso di studioso della storia intendo proprio come cronologia degli eventi se guardiamo agli anni 70 agli anni di piombo insomma sappiamo benissimo come le infiltrazioni esterne e interne possono generare situazioni molto molto brutte quindi si ci sono diversi articoli che parlano di spie russe e sabotatori sul territorio europeo e questo potremmo aspettarcelo voglio dire il problema se viene segnalato dall'intelligence inglese c'è non è di sicuro una bufala ecco ci sono diversi siti the washington post è solo uno però insomma ne ero accolti un bel po' e quindi lui risponde anche a questo e dice che è una affermazione ridicola e che e dice che i disordini nelle città europee sono dovuti a alle politiche delle città europee ai governi locali la sua risposta è questa quindi questo è andiamo avanti allora vi ho parlato della situazione al fronte prima specialmente dall'area di Toresk da qui ve lo faccio vedere di nuovo questa è la città di Toresk in questa zona della città ne avevo già parlato nei giorni scorsi si combatte letteralmente casa per casa sono arrivati diversi video dei soldati che usano le loro armi letteralmente a poche decine di metri di distanza gli uni dagli altri e questo che parla in questo video non è il classico soldato di turno russo ma stiamo parlando di un comandante all'inizio del video si presenta mi chiamo mi chiamo gadienko denis e sono il comandante dice di una compagnia d'assalto dopo lo dirà quale mi ritrovo attualmente nella regione di Toresk nella città di Toresk e stiamo cercando di fare il nostro la nostra missione quello che non posso mostrarvelo vi passo il link in descrizione parla semplicemente però a un certo punto fa una panoramica mostra al di là di questa finestra lui si trova arroccato in questa casa in questo appartamento distrutto dice di essere della nona del nono reggimento e fra l'altro lo sappiamo che possiamo avere una conferma in quanto il nono reggimento si trova proprio qui in quest'area no 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 motor rifle brigate sono è una brigata di fanteria motorizzata insieme alla centonovesima di cui parla quindi presumibilmente sta parlando da quest'area questo soldato questo comandante presumibilmente qui così a naso è difficile diciamo geolocalizzarlo perché mostra solo uno scorcio dei palazzi in cui si trova in questo video però a un certo punto mostra gira il telefono e mostra che al di là a 20 metri di distanza ci sono i suoi i suoi soldati che sono a terra e dice non posso uscire da questa casa perché appena faccio 10 metri cadiamo non riceviamo rifornimenti dice non abbiamo risorse non abbiamo nessun supporto aereo non c'è nessuna capacità offensiva e io sono ferito sono stato colpito tre volte o tre concussioni dice e non riesco a muovermi quindi questa è la situazione sul campo da parte di alcuni blogger russi in particolare questo arriva anche una situazione paradossale siete faccio un esempio siete un blogger russo e dovete fare un certo tipo di narrazione quindi per forza di cose cercate di recuperare materiale un po' come faccio io che vi mostro i video ogni giorno quindi è inevitabile che a un certo punto vi ritroverete fra le mani i video le dozzine e dozzine di video che arrivano ogni giorno dal fronte che raccontano sempre la stessa scena dove vediamo i soldati russi fare viaggi di sola andata dove li vediamo in piccoli gruppetti sbagliati che si beccano le consegne dei droni ucraini e questo è il copione è lo stesso copione da mesi quindi a un certo punto questi blogger cosa devono fare cioè cercano in qualche modo di continuare la narrazione però a un certo punto immaginate che impatto ha su di loro vedere lo stato delle cose e a un certo punto possono anche per dirla alla romana sbroccare infatti questo tizio a un certo punto si mette a denunciare tutto quello che ha visto e la cosa che dice è che non vede mai nessuna organizzazione sul campo quando si fa un assalto non c'è nessuna pianificazione ricognizione e quindi le truppe vengono semplicemente mandate avanti e ogni assalto in questo modo è quello che è quindi sì questa è la situazione dice non c'è nessuna organizzazione a queste affermazioni fra l'altro mi collego anche a quello che dicono gli ucraini che continuano a ripetere che dicono per fortuna i russi sono un po' stupidi che continuano a fare assalti del genere quindi sì ecco una mia osservazione personale penso onestamente che in questi due anni e mezzo quasi tre anni di conflitto se la russia si fosse concentrata su un punto facendo un'operazione congiunta con tutti i crismi alla americana avrebbe ottenuto molti più risultati mentre distribuendosi così su quasi 1400 1200 chilometri di confine che cosa sperava di ottenere nessuno in passato ha ottenuto risultati facendo azioni del genere non funziona così ma non funzionava neanche prima dove vuoi andare quindi cari amici altri video arrivano poi sempre dalla russia azioni di sabotaggio disordini persone condannate per crimini gravissimi tipo dovrebbero stare in galera per tipo dieci vite vengono rimesse in libertà per andare a combattere in ucraina soldati strani soldati che entrano nei negozi in russia e fanno cose che vedresti fare solo tipo un maranza o un delinquente in america e queste questa gente con la divisa e questi sono i soldati che tornano dal fronte quindi sicurezza un paio di caro signor putin la sicurezza prima di tutto in russia sta precipitando parliamo proprio di sicurezza civile questo per esempio è un altro soldato che è entrato a san pietroburgo e che si è portato via quattro persone e sì altri che si ribellano nella regione di celia binsk famosa tra l'altro per il meteorite di qualche anno fa il post è di jason j smart quindi piuttosto autorevole parla di una rivolta e degli incendi scoppiati in questa cittadina perché la popolazione si è stancata del governo locale quindi questa è la situazione in russia oggi e la russia combatte solo per motivi economici per collegarmi al video di dudaev di sicuro c'è una mancanza profonda di ideali da parte della russia altro che provocazione da parte nato motivi per cui tanti stati prima satelliti della russia hanno deciso di venire da questa parte di sicuro non è per simpatia verso di noi sceglieranno il male minore più che altro o al massimo non vogliono proprio stare più con la russia i motivi sono molto semplici nessuno vuole vivere sotto una dittatura non nel nel nostro tempo dall'altra parte c'è l'ucraina che insomma non solo combatte per la propria democrazia per un futuro ma anche per la propria sopravvivenza ma detta così sembra un po' sembra un po' troppo generica troppo idealista non è neanche questo io penso che no i soldati combattano per motivi molto più più semplici come quello che ci mostra questo soldato e questo è quanto ovviamente fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e un abbraccio alla prossima